cari videogiocatori e cari videogiocatrici siamo qua per continuare con e juden chronicles rising quarto video quarta parte andiamo avanti in realtà questa ovviamente la live quindi per voi la diretta non cambierà nulla però per quando caricherò i video su youtube questa sarà la quarta parte e si va avanti allora siamo qui dobbiamo aiutare ogan a recuperare il forziere che nella foresta e tra l'altro ho visto adesso che ho perso qualche fotogramma mannaggia la prima volta che perdo dei fotogrammi porca loca vabbè andiamo avanti si va bene non ti deluderò chiederò un po in giro qua e là vediamo acchi magari dimmi se dovessi avviare un'attività cosa sarebbe probabilmente venderei picconi visto che tutto l'interesse che ruota intorno alla cava andrei sul sicuro picconi è interessante devo chiedere anche a qualcun altro non penso che sia solo lui taverna vado anche più indietro perché magari c'è qualcun altro infatti qua abbiamo oliver no olivier dimmi se dovessi avviare un'attività cosa sarebbe so che con le trappole si fanno parecchi soldi non è nemmeno un lavoro complicato trappole ok lui con le trappole l'altro i picconi bitti dimmi se dovesse avviare un'attività cosa sarebbe è presente l'uscello nella foresta ho sentito dire che il pesce pescato oliva le un bel po di bacqua davvero devo provarci ma mi servirà una canna da pesca tante idee ma tutte diverse come si dice tante pesce pescate oliva e un bel po di bacqua davvero devo provarci ma mi servirà una canna da pesca tante idee ma tutte diverse tante idee fai un rapporto a felipe abbiamo già finito abbiamo già finito abbiamo già finito con felipe dov'è piazza guardia interno vicolo strada secondaria qua andiamo da felipe tieni felipe ho già risolto il tuo ho chiesto in giro ma il fatto è che da quanto ho capito non c'è un parere univoco su quale sia un'attività per fare soldi mi spiace non poterti aiutare ti spiace non potermi aiutare ma aiutato più di quanto pensi a sì un piccone per la cava trappole una canna da pesca sono informazioni molto utili aprirò un negozio degli attrezzi beh sì effettivamente diventerò ricco a grazie di cuore signorinella tieni un timbro per te un altro timbro per noi per il libro ricevuto e anche lui apre il negozio qua aumento di livello stiamo salendo velocemente qua molto velocemente utensileria si sta preparando l'apertura e cosa vende aumento di livello ancora tutti gli attrezzi che potrebbe mai servire a un avventuriero i migliori picconi asce cane da pesca e trappole in un unico luogo vediamo un po che roba vende canna da pesca livello 1 trappola a per ottenere della carne prendiamo la canna e anche alla trappola non posso vabbè proprio avanti grazie a questo oggetto può pescare nei punti di pesca all'interno dei dungeon facendo salire di livello la canna da pesca nuovi pesci diventeranno disponibili per la pesca ma una cosa opzionale obbligatoria anche per gli obiettivi non lo so io vorrei fare il 100% spero di farcela ma il 15 sto gioco esce non sarà semplice devo sbrigarmi devo affrettarmi ok l'obiettivo principale è trovare mello lì nella cava l'altra andare posso vedere le secondarie obiettivi no scusami missioni pardon 100 bacqua tondi tondi non lo so ah forziere con 100 bacqua vai a prendermi il forziere il mio forziere interno quartiere residenziale ok quindi nel quartiere residenziale ho capito bene dobbiamo raccogliere degli armamenti rambi rambio periferia della città poi andrò anche da lui vediamo se trovo il forziere da 100 bacqua è qua il forziere si è qua è ricevuto un forziere con 100 bacqua ok possiamo tornare da andare direttamente allora vicolo dello straniero così facciamo subito veloce ah non è la strada secondaria però ho sbagliato io tieni René hai trovato qualcosa fa vedere dove dove è no dove puoi scommetterci è in questo forziere sono soltanto soldi come faccio a valutarlo sti dentro ci sono 100 bacqua cosa? senti Gokteu è un tipo strambo credo che il suo intento sia quello di metterti alla prova stavi cercando qualcosa del valore di 100 bacqua ma non credo che Gokteu abbia mai detto nulla a riguardo oh cioè l'ha detto lui giusto le valutazioni variano da persona a persona non c'è non ce n'è una che sia più giusta dell'altra un buon presta soldi pensa fuori dagli schemi credo sia questo che intendeva hai ragione sei un genio glielo porto subito ah prima che me ne dimentichi tieni eccoti un timbro grazie erano risolto anche questa facciamo anche l'altra già che ci siamo apre anche lui giusto sì il banco dei pegni chissà che roba vende chissà che roba vende questo 500 bacqua 500 di esperienza negozio negoziante arenè non c'è più posto nel tuo magazzino appesantisci il tuo borsello con i bacqua vendendo alcune cose al banco dei pegni vediamo un po' che roba hai in età posso vendere gelatina sì vabbè per ora mi tengo per ora mi tengo la roba dai più avanti probabilmente sì potrei anche accettare la tua di venderti qualcosa l'altro va detto periferia dov'è che era periferia della città l'ultimo già che ci siamo li facciamo tutte tutti quanti le secondarie ecco qua Rambir allora quindi sei tu la CJ di cui ho sentito tanto parlare sono Rambir mi occupo della difesa di questo posto della difesa sei una specie di comandante o qualcosa di simile non sapevo che esistessero questi titoli qui titoli ah a chi importa di queste cose eh è una questione di cuore ragazzina ho deciso di difendere questa città perché mi sento di farlo quindi ti sei autoproclamato difensore di questo luogo non c'è nessuno che sia più adatto a questa carica questo posso assicurartelo comunque ho degli ordini per te degli ordini per me le armi stanno finendo dobbiamo rimediare subito basta che mi offri un timbro non c'è bisogno di dare ordini un timbro di nuovo questi timbri vi hanno dato la testa se è proprio necessario va bene adesso dati da fare sì signore ah estrai dei minerali di ferro nella cava però di missioni secondarie ho anche quell'altra quella di Ogan per cui andiamo prima alla grande foresta e cerchiamo il suo forziere e poi facciamo la cava tanto alla cava devo comunque andarci questa magari è un po' più fuori mano al momento adesso fa il doppio salto lei è meglio il doppio salto va più in alto c'è anche l'attacco critico ogni tanto allora ah non so dove non dice dov'è non dice dov'è devo cercarlo io il tesoro dovrei trovarlo andando magari o giù o più avanti non lo so forse dall'altro lato giusto potevo anche andare a sinistra forse a sinistra troverò il il forziere di Ogan proviamo ad andare a sinistra stavolta a destra avevamo trovato la vernice vediamo forse a sinistra troviamo il forziere di Ogan no non posso andare qua anche con l'attacco caricato no peccato però potrebbe comunque essere qua dove abbiamo affrontato il lupo di livello alto io provo guardo non si sa mai e se non è di sopra forse è più facile che sia di nuovo vabbè eh ma che fa dei bei danni salita di livello ma non credo di trovarlo qua no infatti devo saperlo devo immaginarlo proviamo di sopra allora l'unica non mi curo perché è sprecata tanto posso sempre andare a casa a fare una dormitina a recuperare lì la salute viaggio veloce vai radura nel grande albero sì vediamo un po' se qua trovo trovo qualcosa è qua cosa? come di ma che ma è tornata la pianta ma che cavolo perché è tornata beh che l'ho distrutta subito ma perché? ogni tanto torna ah qua c'è ok forse non è forse è quello il suo tesoro sapete? potrebbe benissimo essere questo no anello della forza però mi fa andare avanti aia qua mi serve un un aiuto prendiamo vediamo se sotto troviamo qualcosa lago del segugio infernale mi devo preoccupare qua ah per pescare ci sono aree nei dungeon nelle quali è possibile pescare i pesci che catturi possono essere usati per cucinare per altri oggetti non credo serva a dire che avrei bisogno di una canna da pesca beh ovvio prima il pulsante è giusto al momento giusto per catturare un pes successo ha funzionato dal primo tentativo è ricevuto un pesce e un obiettivo sì ma qua sono venuto solo per il pesce un po' strano sì ma il tesoro del nostro amico dobbiamo tornare indietro non lo so raccogli cos'è cos'è questa cosa è un colore è un colore diverso qua è normale è sempre stato così qua ah i funghi ok è qua eccolo qua il tesoro l'abbiamo trovato alleluia hai trovato il tesoro di Hogan yeah ah sono pieno di roba non posso più devo trovare un lo faccio solo per l'esperienza sappiatelo ok tanto non posso più tenere nulla menu viaggio veloce esci usciamo e andiamo subito da da Hogan magari vendo anche un po' di roba non lo so devo vedere Hogan è strada secondaria era giusto si è qua Hogan ho trovato le tue cose Hogan non so come ringraziarti CJ finalmente potrò inaugurare il mio negozio penso di avere un paio di cose che potrebbero interessarti passa a trovarmi quando vuoi certo adesso anche lui tim 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 timbro ricevuto ovviamente sì naturalmente Emporio si sta preparando all'apertura ha ricevuto 500 bacca ha ricevuto 500 esperienza scambia le tue merci l'Emporio cosa vende legname scambia beni in pratica scambiamo roba per ok c'è un po' di roba lui poi vorrei vendere banco dei pegni magari mi sbarazzo di roba in eccesso che dite tipo ali queste qua me ne posso vendere facciamo che me ne vendo 16 di legna magari me ne vendo 13 la roba in eccesso la posso anche vendere guardate qua quanta roba zucchero facciamo 25 11 di gelatina ok ho fatto un bel po' di soldi qua dobbiamo andare nella cava dobbiamo recuperare della roba anche per quell'altro siamo tornati forse si va finalmente giù questa volta seriamente ho sentito che stai cercando quella ragazza Mallory giusto beh ho accettato di tenerla d'occhio mentre sono a caccia di tesori si sarai a caccia di tesori in un posto piuttosto pericoloso allora è dall'altra parte di un blocco un po' più giù c'è un trucco per aprirlo però dovrebbe esserci una leva intorno al blocco da qualche parte assicurati di dare una bella spinta una bella spinta è ok capito ci vediamo quando torno allora andiamo giù lo spadone di Garou è in grado di rispedire i proiettili da dove sono venuti grazie a un colpo benassestato è possibile respingere rocce e altri tipi di proiettili segnati in pratica vediamo se lo fa dai fallo spara ok funziona molto bene effettivamente dovevo curarmi vabbè ormai sono qua no volevo evitarlo ecco dobbiamo prendere della roccia sopra c'era qualcosa non c'era niente c'era solo questo qua ah in realtà lui può rompere qua andiamo da questa parte vediamo che cosa c'è nulla si blocca subito qua il passaggio bene forse ecco forse lei quella ragazza può distruggere questi cosi questi spuntoni non lo so queste rocce magiche livello 24 quello è sopra non posso fare nulla contro quello lì al momento non è abbordabile ah già qua me ne ero dimenticato devo andare a destra ah possiamo completare la missione secondaria ma vado avanti cos'era quel ah il nemico qua aspetta un attimo ma lui non arriva qua no aspetta un attimo forse possiamo andare anche di là perché c'è della roba qua non l'avevo vista prima un po' di monete vai garù kangaroo vai questo cristallo no non volevo cadere così i boss non sono gli unici nemici dotati di scudo se ti ritrovi ad affrontare un nemico con scudo ricorda che lo spadone di garù è dotato di una potenza notevole ah lui dici ma io faccio così ah non lo non riesce a saltare la nostra devo andare garù qua garù è anche in grado di fare ah garù para giusto può parare il colpo me ne ero dimenticato si non schiva ma para lui la schivata è una mossa propria di lei della nostra cj mentre garù ha l'abilità di parare forse per via dello spadone che si adatta ah qua la leva non abbiamo ancora trovato la ragazzina con le trecine con i codini dai dai devo fare attenzione perché la nostra amica qua forse conviene curarla zaino tanto ne ho un bel po' dobbiamo trovare no 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 ce ne sono tanti qua ok forse è qua la ragazza oltre questo cancello andiamo a sinistra no deve andare giù e qua colpo potenziato no volevo ecco ecco mille e trecce wow lui va così caricato piano piano forse troverò la leva qua infatti però la leva che apre questa qua un'altra zona se scendo qua che succede si può andare si ah ok mi ma non mi sembra tanto utile qua ci sono già passato e allora bisogna andare a destra a destra troverò la leva che mi permetterà di aprire la porta qua di sotto il cancello sta dormendo vai garù profittane come blocca ma no non volevo farmi colpire eh ma è un po' scomodo qua adesso ok è infatti qua la leva però prima prendiamo il tesoro pendente della buona sorte adesso magari li metto i personaggi perché voi se distruggete le due casse poi non riuscite più a salire eh bisogna pensarci prima eh normale che non sono stato avventato qua è giusto aperto di sotto allora mettiamo la roba intanto lei può mettere un secondo accessorio vediamo un po' ok allora stavo dicendo devo mettere il pendente quello del non lo so quale metto alla nostra CJ anello della forza aumenta la forza si quasi quasi mentre il nostro amico mettiamo gli altri due senza pensarci perché sono due soltanto vabbè andare bene andiamo giù qua troveremo la ragazza vero infatti lo sapevo eccola è lei non terrorizzerete più questa città il mio obiettivo è onesto è vero missile magico super esuberante attenzio un cuore di nuovo che problemi ha questa ragazza state indietro canaglie dovete vedervela con la guardiana pacificatrice di nuova neva e guidata dalla sacra luce delle rune sono ancora io mellory fervente paladina dell'amore della giustizia non so non so con chi crede di parlare ma siamo solo una coppia di avventurieri non continuate a mentire quei volti malvagi la brama di sangue siete dei banditi entrambi riconosco un bandito quando ne vedo uno o ne sento uno lascerai che ti parli in questo lascerai che ti parli in questo modo sta chiaramente parlando di te mellory per favore ascoltaci sono una razza attrice non mi sognerei mai di rubare a chiunque sia vivo e vegeto provalo come scusa se siete solo avventurieri allora provatelo quale tipo di prova vorresti esattamente aspetta lo so questa ecco la tessera la tessera vuoi proprio farci ammazzare ecco un permesso di esplorazione firmato e sigillato dalla sindaca in carica oh cavolo questa tessera è autentica allora siete davvero degli avventurieri mi dispiace davvero più salvati in estremis che strano di solito non mi sbaglio ero certa che quei banditi di lenti si sarebbero presentati oggi banditi di lenti si li hai visti no nella periferia della città ci sono molte lenti nelle rovine runiche i banditi ne sono sezionati è pieno di minerali e oggetti laggiù ma loro hanno gli occhi solo per le lenti e perché eri così certa che sarebbero venuti oggi qualche giorno fa è stata scoperta un'enorme lente grezza insieme a un golem del filone altrettanto enorme davvero è meglio che non sia uno scherzo ragazzina non scherzerai mai su una cosa del genere ecco perché pensavo che sarebbero arrivi stati qui dobbiamo andare a prendere la lente adesso cosa ti succede aspetta avevamo detto che avremmo riportato questa ragazzina in città per quel che sappiamo potrebbe aver distrutto quella lente ieri quando ci ha attaccati ah giusto Mallory non siamo qui per le lenti siamo qui per riportarti in città ordini di gocteo è così si preoccupano tutti per te quindi vieni con noi ok no no è arrabbiato con me il bastione vero bastione o bestione oh adesso si preoccupa del bastione nessuno arrabbiato il buco è stato richiuso quindi va tutto bene andiamo no non vuole una vera ragazza magica non scapperebbe mai dopo aver fatto un disastro una vera ragazza magica farebbe la cosa giusta no non è così sei diversa dalle altre ragazze magiche che conosco per niente per niente sei impazzito chiudi il becco senti anche una ragazza magica fa degli errori ma gli errori non sono sempre negativi se ti insegnano qualcosa se fai un disastro fa un passo indietro calmati e pensa cosa avresti potuto far meglio parlane con gli amici o la famiglia è così che si cresce no è il modo corretto di essere una ragazza magica mi sbaglio no mi sbagliavo bene allora che ne dici se ti riportiamo a casa ok eh che bravo è stato molto molto diplomatico come hai fatto eh è bravo un bravo bambinaio fai rapporto ok andiamo da lui dove era in piazza non mi ricordo non mi ricordo dove cavolo sta il nostro uomo dov'è boh l'abbiamo perso forse nel quartiere residenziale c'è scritto dov'è missioni ah vicolo dello straniero perfetto allora no e l'altra dov'era ah periferia allora prima periferia così diamo i minerali al tipo così potrà rinforzare le difese tieni più di avere tutto quello che avevi chiesto notevole sei stata più brava di quel che pensavo potresti avere la stoffa per diventare un soldato dammi un timbro e marcerò lontano da qui che ne dici ah giusto mi avevi chiesto un timbro bene ecco a te ti chiamerò di nuovo quando avrò bisogno di te soldato timbro ricevuto hai ottenuto mille andiamo da nostro nuovo amico vicolo dello straniero strada secondaria dove era lui non mi ricordo vicolo dello straniero ok alla fine non mi serve neanche fare faccio così tanto uguale non cambia nulla eccolo qua ho fatto quello che mi hai chiesto ecco la signorinella c'è qualcuno per te bene 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 mi spiace averti disturbato ecco il tuo timbro bene Mallory vorresti dire qualcosa mi dispiace farò un passo indietro mi calmerò e parlerò con i miei amici e la mia famiglia di cosa ho sbagliato sentitela cosa ti ha resa così modesta così all'improvviso è stato è stata opera di Garu sicuri di avermi portato la ragazza giusta eh sì è lui abbastanza sicuri beh non mi posso lamentare stai fuori dai guai adesso ok d'accordo penso che anche i nostri amici meritino altre scuse hanno aiutato a ripulire il tuo disastro a bastione ieri davvero nessun problema sarà meglio che torniamo indietro però esatto abbiamo molto da fare beh non vi tratterremo ancora inoltre dobbiamo scusarci anche con la sindaca non è così Mallory giusto noi andiamo bene torniamo lì e troviamo quel golem del filone un altro timbro 20 trimbi 20 timbri mamma mia quanta roba completamento missione mi conviene andare un attimo nel nel nostro quartiere generale nella nostra casetta un attimo quartiere residenziale termina la giornata e si va avanti magari salva ok andiamo la cava l'obiettivo adesso è sconfiggi il golem non sarà semplice ci proveremo la terza la volta buona come dicono stiamo arrivando golem fil del filone la tua lente grezza sarà mia ammiro la tua sicurezza molto ma hai confrontato un golem del filone prima d'ora no no e questa lente grezza di base è un mucchio di potere magico messo insieme si e i demoni con le lenti sono di solito molto più forti di quelle senza si sembra di sì è quello che ha detto mio padre probabilmente ci renderà le cose difficili in un combattimento tuo padre non ha detto nulla su come batterli per caso no aspetta un secondo come ha fatto esattamente a mettere le mani su una lente grezza cosa ha fatto del suo meglio ed è quello che farò io andiamo alla cieca praticamente sapevo che sarei dovuto venire da solo anche il migliore razziatore deve iniziare da qualche parte non saprò ancora cosa fare ma so che dovremo colpire forte chi colpisce per primo colpisce due volte immagino sia il piano migliore che abbiamo non aspettate che resti qui se le cose si mettono male non voglio morire in un posto del genere andiamo garu 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 allora andare avanti inutile allora scendiamo andiamo di qua dovremo in teoria trovare il golem andando avanti qua c'è della gente non parlano non mi dicono nulla nooo che tutti nemici qua ah non devo ok eh ma perché guardiamo un po' di roba anche se non mi serve però già che ci sono io sono uno un completista oh no no mi serve ok sono messi tutti un po' male qua un po' stanchi no perché non l'ho colpito ok eh vabbè tutta la famiglia qua andiamo direttamente di qua perché so che è la strada giusta avevamo incontrato lei qua questa è la zona nuova sono tutti spaventati mamma mia salva qua se mi fa salvare vuol dire che c'è un nemico forte qua eh il golem nei paraggi vai garu qua per ora niente andiamo a destra oh 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 devo parare ah che ho bloccato dov'è il golem dov'è il golem che lo voglio affrontare no ma no volevo utilizzare ok abbiamo utilizzato l'attacco collegato la prima volta che involontariamente l'ho fatto non era mia intenzione però non so scendo giù o facciamo il lato di sopra troviamo il lato di sopra va magari non c'è niente qua è tutto chiuso infatti mi son tolto il fastidio il golem è di sotto un attimo forse qua c'è qualcosa di utile no non posso andarci controllo anche sotto no 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 vabbè lo eliminiamo già che ci siamo ho sbagliato il tempismo ok attacco collegato buono ah ho raggiunto il massimo neanche me ne ero accorto l'indicazione è qua secondo me è qua il golem salva ok possione curativa e qua c'è il golem lo sento è qua il golem eeeh oh golem del filone è bello grosso cavoli che tipo di attacco fa ah ok questo qua ok la difesa forse utilizzando non lo so mi vado dietro magari che dite ah lui poi va ok fa così fa un po' male cavoli cavoli devo curare la nostra amica aumenta la forza no non mi serve a niente al momento ah ok poi scende a terra lo possiamo colpire ah si ricompone lui bisogna togliergli tutta la ho capito ah vabbè lui è l'attacco più potente uh che bello questo ok ma tutto qua il golem sapevo non mi curavo neanche risulto lente grezza golem magico dei minerali è sconfitto il golem dei minerali nella caverna nella cava abbiamo fatto anche sta parte sì una lente grezza ce l'abbiamo fatta l'abbiamo presa fammi vedere tieni guarda è maledettamente enorme beh è grande certo ma sì non grande quanto quella di mio padre ah allora è andata male cavolo non va bene cosa la butti ehi a cosa stai giocando avresti potuto romperla no le lenti grezze non si rompono così facilmente però ci vuole una tecnologia speciale per farla diventare una lente runica utilizzabile può farlo solo un guardiano giusto guardiani i guardiani antichi protettori delle rovine come se lo sapessi mai incontrato uno siete tutti razziatori in famiglia vero tuo padre il padre di tuo padre nessuno ha mai parlato dei guardiani beh ho chiesto mio padre a mio nonno una volta la prima volta che ho sentito parlare di guardiani e cosa hanno detto di non saperne nulla e che non avrei dovuto più parlarne non gli hai creduto vero certo che si se non ne sapevano nulla perché avrebbero dovuto dirti di tenere la bocca chiusa regola numero uno dell'essere adulto fare sempre domande stai dando stai dando l'oro dei bugiardi alla mia famiglia avrei dovuto ok ok non sto dando del bugiardo a nessuno dimenticatelo sei onesta d'accordo onestamente ingenua cosa nulla in ogni caso se anche la trasformassi in una lente runica probabilmente non potresti utilizzarla è la lente che deve è la lente che deve sceglierti e nessuna lente sceglierebbe mai uno scontroso come te hai una frecciatina la lente sceglie cosa significa cosa intendi cosa intendi non sei nulla delle lenti c'è qualcosa che sai so che della gente non ci so che della gente non ci si può fidare le uniche cose di cui mi fido sono la mia spada sono la spada nella mia mano e il denaro nella mia borsa l'avevi già detto che vita noiosa devi avere non farmi ridere ragazzina l'entusiasmo ti riempie lo stomaco a fine giornata le lenti runi che scelgono il proprio proprietario credici o no in ogni caso se non sei tu a essere scelto non sarai mai in grado di usarle è come se è come se fossero vive che schifo alcune dicono che lo siano sì nessuno lo sa per certo però oltretutto se non puoi usarle non c'è ragione di tenerle meglio venderle in base al grado ci si fa una piccola fortuna dalla sua misura suppongo che questa valga una bella somma sembra che possa essere resa magica se qualcuno sapesse come potremmo parlare di circa 200.000 bacqua 200.000 bacqua non è non è male contieniti garu poi cosa questa roba è rara è teoricamente potente e vale un sacco di soldi ho capito ma se a qualcuno importasse più delle lenti che dei soldi cosa succederebbe dove vuoi arrivare ascolta cosa vorrebbe da queste da queste cose qualcuno con tutti i soldi del mondo non ne ho idea più soldi semplice no oppure oppure magari gli piacciono le cose luccicanti come gli uccelli o roba del genere stupido e a chiedere una bambina che ne so di cosa pensa la gente ricca chiediglielo tu probabilmente vogliono poteri magici no potere magico eh beh il vero lavoro inizia adesso le rovine runiche ci attendono andiamo questa cosa è troppo piccola per la mia borsa sarà meglio aggiungerne altre abbastanza da poter prosciugare la taverna andrà bene vabbè è ottenuto mille completamente omissione nelle rovine andiamo ancora un po' avanti vediamo com'è qua ah non posso purtroppo più prendere nulla mi conviene allora ritirarmi appena trovo anello della difesa ah qua ci sono le rovine qua direttamente un ok quindi sono queste le rovine runiche sono ancora più forti di quanto pensassi non mi aspettavo che fossero così profonde assurdo pensare che esistano sotto questa squallida cittadina sento odore di guai tieni gli occhi spalancati aia il mio naso non sbaglia mai qualcosa di brutto è in arrivo qualcosa di brutto è in arrivo va bene la maledizione dello stregone malvagio cosa uno stregone malvagio punito dagli dèi e sigillato nelle rovine ne avevamo sentito parlare in città è vero commetto che si tratta di lui accetto la scommessa no so banditi amici avete problemi puzzate più di me garù sono banditi sono quelli che hanno attaccato organ banditi quegli stramboidi ossessionati dalle lenti di cui parlava quell'altra stramba grazie per esserti occupata del golem del filone signorinella adesso dateci la lente non ci saranno problemi problemi ah per voi forse avete dimenticato cos'è successo l'ultima volta vediamo che succede questa volta ragazzi andiamo vabbè dei normali soldati che cavolo beh mi sembrano un pochino un po' più forti ah ma si curano no non si curano ok uno è già andato a terra ma siete delle pippe voi voi quattro comunque che ci fa un bifuoco come te con una bestia ritirata ragazzi torneremo a prenderemo quella lente dai loro cadaveri ti è aspettate avete rubato voi quelle lenti vero lasciatele beccatevi questa cj giù no non possiamo più tornare indietro no no come faccio adesso cos'era le mie orecchie fischiano ancora una bomba runica l'ho già vista gli stregoni che riescono a crearle e crearle sono più unici che rari bombe runiche come hanno fatto dei banditi a metterci sopra le loro luride mani bella domanda più che altro come sono entrati dubito avessero i documenti devono aver corrotto la vedetta o qualcosa del genere qui è pieno di avventurieri li avrebbero avvistati in poco tempo no non mi piace troppo sospetto torniamo indietro per ore e parliamone con la sindaca erano solo un paio di banditi ti preoccupi troppo non mi preoccupo per me dobbiamo dire agli altri avventurieri alle scorte di fare attenzione più facile addirsi che a farsi è il momento di usare quella spada vai garù vai vai garù non può mi sa fare dacci un taglio va bene ci sono troppe rocce vai garù vai garù vai vai farlo anche per me soprattutto non lo farà mai ti ho detto che sono troppe mi romperei un braccio stai scherzando quindi cosa siamo seppelliti vivi qui calma deve esserci un altro modo di uscire da qualche parte dove dove il man here dobbiamo trovare il man here ma che roba è quella antica cosa di pietra esattamente ce n'era uno nella grande foresta ah tutto distrutto si l'avevo visto quella roccia che ho visto quando ci siamo incontrati nella foresta ma perché dovrebbe essercene una qui perché non è importante ora concentrasi sul dove fidati e basta allora le rovine runiche rovine misteriose conosciute dagli abitanti del posto col nome di rovine runiche la scoperta delle rovine runiche ha portato tantissimi avventurieri a nuova neva e in cerca di fame e fortuna ad attenderli ci sono dei mostri di fulmine e ho ottenuto 400 esperienze ok completamento missione vai devo trovare un salvataggio missione principale 10 il mistero troviamo il pietrone ma di livello 10 questi o i nemici elettrici no no che roba è cosa fa ah mi continua a fare il danno cavolo no 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 attenzione non so cosa dirti speriamo che non sia danneggiata che sia solo la ventola un po' sporca no 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 eh ok hai provato a cercare online qualcosa qualche guida magari qualcuno ne parla ah è questa qua la pietra aspetta quello non è un mannir è come quello nella foresta ma questo sembra essere in condizioni migliori c'è una rientranza qui sembra ci si possa infilare qualcosa pensi che la lente runica lo possa attivare mio nonno mi ha detto qualcosa in merito una volta una volta penso che possa andare bene anche una lente runica di grado basso qua posso anche salvare meno male non che importi tanto se non ne abbiamo una abbiamo una abbiamo la lente che abbiamo preso dal golem ehi cosa stai facendo con quella lente runica semplice per favore è vivo d'accordo allora usciamo di qui e come fai stiamo aspettando qualcosa si sta nervosendo quel bugiardo di perché non funziona non voglio morire qui inutile ammasso di pietra fa qualcosa garù aspetta calmati fammi dare un'occhiata stiamo sbagliando qualcosa adesso ci pensa lei risolve tutto c'è una specie di iscrizione qui sembra la chiave del man di cui parlava mio nonno vediamo macchinari misteriosi alimentati da lenti runiche la chiave per risvegliarli risiede nell'enigma che si trova su di essi ruota i blocchi per collegare i passaggi rivelare il vero potere che giace al loro interno ah un enigma il primo enigma del gioco vabbè un enigma banale questo qua è impossibile fallirlo fai così ha funzionato eh cosa che succede ah siamo fuori ah ghia ma non siamo a siamo in un nuovo posto qua siamo fuori ce l'abbiamo fatta penso che vum quindi questo manrir è come un portale verso l'altro manir nelle rovine runiche scommetto che quei banditi sono entrati così come fai a sapere queste cose sul manrir garù li ho visti in giro i mercenari vedono qualsiasi cosa per strada e che mi dici della lente runica che abbiamo usato usato per attivarlo dove l'hai presa eh l'ho trovata incastrata in quel vecchio menel distrutto che abbiamo visto nella foresta ah ok ho sentito delle voci in città sono andato a indagare ho trovato la lente incastrata da quel che so potrebbero essercene diverse in giro se è così scusami amico ma dove ci troviamo ma non è una signora questa qua impossibile in una fattoria appena fuori nuova neva scusaci scusaci se piombiamo qui in questo modo stai bene mi chiamo cj e questo zuccone garu siamo avventurieri arriviamo dalle rovine runiche io sono ayus ah un maschio pensavo fosse una femmina questa io sono ayus il proprietario della fattoria non che abbia molto da coltivare dal terremoto a meno che i miei occhi non mi abbiano giocato un brutto scherzo sembra che siate usciti proprio da quella roccia esatto sembra che questa roccia sia connessa con quella nelle rovine runiche ah non hai visto dei tipiloschi qui intorno ultimamente vero banditti e roba così non saprei dire i cani non hanno abbaiato ultimamente quindi non hanno visto nulla tranne voi due adesso allora ah immagino che i banditi stiano usando un altro mannir allora non sapevo che questa roccia fosse speciale ho sempre pensato fosse un vecchio memoriale per gli antenati e invece non è un memoriale lo sapevo non riaprirò mai più questa fattoria progettavi una grande riapertura ci stavo pensando me l'ha chiesto la sindaca in persona in persona diceva che non c'è abbastanza cibo da soddisfare tutti voi avventurieri purtroppo non ho niente di ciò di ciò che mi serve per ricostruire il fienile e neanche semi per coltivare aius oggi deve essere il tuo giorno fortunato saremo felici di aiutare oh davvero alcuni materiali per il fienile dei semi basteranno per iniziare si trovano facilmente in quella foresta laggiù sì signore ti sei dimenticata di quei banditi che danno la caccia alla tua lente o sei solo troppo tenera andiamo dalla sindaca le diciamo dei banditi poi torniamo alla caccia al tesoro era questo il piano no? non si fa molto a stomaco vuoto no? se non c'è il cibo non ci sarà nessuna caccia al tesoro oltretutto quei banditi credono che siamo morti probabilmente sono tornati a frugare fra le macerie in cerca della lente del golem del filone ci vorrà del tempo prima che finiscano di scavare suppongo che abbiamo tempo per una piccola deviazione in più la carenza di cibo avrà effetti anche sulla taverna sai? va bene togliamoci il pensiero allora colonne di pietra misteriose che è possibile trovare in giro per la città una volta attivate inserendo una lente runica le colonne portano chiunque le tocchi in un altro luogo sono chiaramente connesse alle rovine runiche e ho ottenuto 100 punti esperienza d'accordo l'unica cosa che vorrei è completamente un missione vorrei salvare mi fa salvare missione principale dall'altro lato posso tornare purtroppo qua solo ah indicazioni ok qua posso posso salvare salva dopo più di 4 ore va bene mi fermo qua spero che vi sia piaciuta questa parte di aiuto il chronicle rising chronicle rising e andremo avanti nella prossima parte sempre con la mia series s